Ben ritrovati per la puntata di oggi, vogliamo iniziare dalla descrizione del videoclip per una volta in maniera originale perché questo contribuisce al mood e in parte anche a caratterizzare questo filmato e il brano a cui fa da accompagnamento. Le riprese infatti sono avvenute principalmente nelle isole Kauai e Ohau, nell'arcipiologo delle Hawaii, mentre l'aeroporto all'inizio del video è l'Honolulu International Airport. L'ultima spiaggia visibile nel filmato è quella di Analei Bay, sempre nelle Hawaii. Il videoclip ha esordito all'epoca sui canali tematici ed è esattamente il marzo del 2008. Comincia con Brantz, l'autore, su un aeroplano mentre vengono mostrati diversi scenari balneari. Naturalmente Jason Brantz che canta I'm Yours. Il video prosegue mostrando il cantautore a bordo di diversi mezzi, fra i quali un taxi e un furgone. Alla fine ecco che il cantante arriva in un parco dove incontra alcune persone. In seguito viene ripreso mentre nuota nei pressi di una meravigliosa cascata, che altro non è che la Manuai Willy Fall, mentre poi fa surf nell'oceano e infine mentre esegue il brano su una piccola imbarcazione. È chiaro che già questo dà un'idea di spensieratezza. I'm Yours, musicalmente parlando, è naturalmente un singolo proprio del cantatore statunitense Jason Brantz, pubblicato il 12 febbraio del 2008 come primo estratto dal terzo album in studio, We Sing, We Dance, We Still Thinks. La canzone era originariamente pubblicata in un EP a tiratura limitata, intitolata Extra Credit, ed era il 2005. L'idea, l'obiettivo era promuovere l'uscita del secondo album, Mr. AZ, appunto Mraz. Il singolo è stato poi reso disponibile su iTunes e su altri siti specializzati, appunto a febbraio del 2008. Quanto al contenuto, beh, la canzone, I'm Yours, è un brano che parla del rischio nella vita e nell'amore, come tematica generale. Il testo segue la storia di una persona che capisce di aver commesso un errore, però è determinata ad andare avanti e anche a correre rischio nonostante le conseguenze. Il ritornello sottolinea l'importanza di non esitare, perché il tempo è prezioso e ciò che sarà, sarà in qualche modo. Nella parte centrale poi si trova un appello alla vicinanza, alla fiducia nell'altra persona e in qualche modo a prendersi del tempo per assaporare appunto il presente. Il finale, infine, serve a ricordare che il cielo è il limite, incoraggiando l'ascoltatore però a non avere paura, a seguire i propri sogni e anche a rischiare appunto nella vita e nell'amore. Ed è anche un po' con questo consiglio che adesso vi lasciamo, ma solo momentaneamente, per ascoltare e gustare questa canzone e altre qui su Non Solo Suoni, perché presto torneremo insieme anche per altri brani e per altre puntate speciali come questa. A presto allora!